Allora per annunciare le tue imitazioni vorrei chiudere questa mia performance con Giorgio in my mind Ti lasciamo allora, è bellissimo, è un ricordo di Rechars, adesso abbiamo il microfono Quindi pensando a Rechars anche che... Esatto, è una voce più grande, Rechars Allora un grande applauso dall'Estonia, Maria Daniera Allora un grande applauso dall'Estonia He大 Te sensato, i000, 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 двигati касate Counselore di tonico Allora un grande applauso dall'Estonia Eعت menos di diretti defensive di爬atamente E Shač tu asciaka, educación consistency Grazie a tutti 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 Grazie a tutti